bene, è arrivato il momento di introdurre la trasformata di Fourier l'ipotesi che facciamo è che il segnale a tempo discreto x con i sia tale che la sommatoria da meno infinito a più infinito del modulo di x con i sia convergente, converga, quindi sia minore di infinito in gergo si dice che la serie, la sequenza è assolutamente sommabile sotto questa ipotesi possiamo definire la trasformata di Fourier nel seguente modo come una sommatoria per t che va da meno infinito a infinito di x di t per e alla meno j omega t dove j è l'unità immaginaria omega è invece una variabile reale ecco, per la trasformata di Fourier a differenza della trasformata z utilizziamo il simbolo t per evitare confusione tra l'unità immaginaria e la i anche se ovviamente è una scelta puramente formale non cambia niente la notazione dell'indice che usiamo nella sommatoria invece più interessante è vedere che cos'è questa trasformata di Fourier mentre nel caso della trasformata z avevamo una funzione complessa di variabile complessa perché la trasformata è un numero complesso che è funzione di z che è un numero complesso definito nel piano di Gauss per la trasformata di Fourier invece otteniamo una funzione che è complessa perché il risultato di questa serie è comunque una quantità complessa un numero complesso che è funzione della variabile reale omega quindi questa è una prima differenza rispetto alla trasformata z tuttavia esiste una forte connessione tra le due trasformate che è sintetizzata da questa proprietà sotto le ipotesi fatte la trasformata di Fourier è uguale alla trasformata z valutata in e alla j omega cosa vuol dire valutata in e alla j omega? significa che se io prendo la trasformata z che è funzione di z e tutte le volte che trovo z scrivo al suo posto e alla j omega ottengo la trasformata di Fourier questo si vede da un punto di vista formale molto semplicemente perché la trasformata di Fourier può essere scritta come la serie tipica della trasformata z cambiando tutte le volte che c'è z mettendo al suo posto un e alla j omega se io metto e alla j omega mi ritrovo e alla meno j omega t che è proprio l'espressione che abbiamo visto qui un breve ripasso su cosa significa il numero complesso e alla j omega allora dobbiamo fare ricorso alla formula di Eulero voi sapete che i numeri complessi possono essere rappresentati attraverso la loro parte reale la parte immaginaria ma si può anche fare ricorso alla rappresentazione polare la rappresentazione polare rappresenta il numero complesso utilizzando il suo modulo che qui potremmo chiamare ρ e la sua fase la fase che qui è indicata con omega è l'angolo che il numero complesso ha nei confronti del semiasse reale positivo quindi qui siamo nel piano di Gauss qui abbiamo la parte reale di z qui la parte immaginaria di z consideriamo un numero complesso z uguale ρ e alla j omega allora se io scrivo un numero complesso con questa notazione dicevamo ρ è la sua distanza dall'origine il modulo del numero complesso che si otterrebbe come radice quadrata di la sua parte reale al quadrato più la parte immaginaria al quadrato e invece omega mi dà l'angolo allora quando io dico che prendo z uguale a la j omega significa che sto mettendo ρ uguale all'unità mentre invece omega può assumere un qualsiasi valore quindi vediamo che la trasformata di Fourier si ottiene dalla trasformata z andando a prendere solo i valori di z che si possono scrivere come la j omega e quindi sono tutti i valori di z che hanno in comune il fatto di avere ρ uguale a 1 quindi sono e qui lo vedete rappresentato sono i punti che nel piano di Gauss stanno sulla circonferenza di raggio unitario quindi qui è il punto 1 questo è il punto meno 1 questo è l'unità immaginaria questa è meno l'unità immaginaria ecco questa proprietà matematica ha anche un'interpretazione potremmo dire geometrica nel senso che possiamo vedere la trasformata di Fourier come la restrizione della trasformata z alla circonferenza di raggio unitario qui ho semplicemente ripetuto la formula matematica quindi la trasformata di Fourier la trasformata z pur di mettere z uguale alla j omega ma è più interessante guardare al grafico allora nel grafico noi abbiamo il piano di Gauss parte reale parte immaginaria di z noi sappiamo che la trasformata z è una funzione complessa della variabile complessa z quindi questo significa che dovrei rappresentarla come una funzione definita sul piano siccome è una funzione complessa in realtà non ho la possibilità di rappresentarla geometricamente in maniera completa perché un numero complesso ha parte reale parte immaginaria oppure ha modulo e fase allora in questo caso per semplicità rappresento soltanto il modulo quindi accanto a questo grafico uno potrebbe immaginare un secondo grafico in cui invece viene rappresentata la fase di x di x di z al variare di tutti gli z possibili però per semplicità guardiamo soltanto come il modulo dipende da z questo fa sì che abbiamo di fronte una superficie una funzione di due variabili una funzione della parte reale e una funzione della parte immaginaria ecco questa superficie rossa immaginiamo che sia la rappresentazione geometrica del modulo di x di z se considero la trasformata di Fourier devo andare a valutare questa superficie non su tutti i possibili z cioè su tutti i punti del piano ma sui punti del piano che si lasciano scrivere come z uguale alla jω abbiamo già detto che questi sono i punti con ρ uguale a 1 quindi questo qui è il punto in 1 questo è l'unità immaginaria questo meno 1 quindi questa qui è una circonferenza di raggio 1 quindi quello che mi interessa non è la funzione dappertutto la funzione rossa ma il valore che assume la funzione rossa su questa circonferenza quindi è come se io alzassi un cilindro qui e poi vado a intersecare la superficie rossa e ottengo questo andamento ecco questo andamento che sto indicando col mouse è il modulo di x alla jω cioè il modulo della trasformata di Fourier l'omega di cui stiamo parlando è semplicemente l'angolo che vado a formare quando mi muovo sulla circonferenza quindi quando parto da qui omega uguale a 0 poi mano a mano omega cresce qui diventa pi greco mezzi vado avanti qui diventa pi greco tre mezzi pi greco e poi torna indietro ecco quindi diciamo questo è quello che voglio dire quando affermo che la trasformata di Fourier è la restrizione quindi qui ho una superficie io di questa superficie considero soltanto diciamo i valori che assume in corrispondenza di questa circonferenza da questo punto di vista sembrerebbe che la trasformata di Fourier contenga molte meno informazioni della trasformata z perché la trasformata z è definita su tutto un piano io di questa superficie diciamo ricchissima di informazioni vado a prendere soltanto una linea chiusa sostanzialmente naturalmente come dicevamo dovevo rifare poi questo anche per il per il diagramma per le fasi quindi ci sarebbe un'altra superficie da considerare però non ci interessa tanto meccanicamente fare dei calcoli quando quanto capire un concetto ecco da quello che abbiamo detto vediamo subito alcune interessanti proprietà una prima proprietà è che la trasformata di Fourier è due pi greco periodica e d'altronde dal grafico precedente questo è assolutamente evidente se omega mi rappresenta l'angolo che formo rispetto al semiasse reale positivo quando io ho fatto un giro di due pi greco due pi greco l'angolo noi lo esprimiamo in radianti sono tornato al punto di partenza ecco vi faccio notare che noi vista questa corrispondenza tra trasformata di Fourier e trasformata z d'ora in poi indicheremo la trasformata di Fourier sempre come x e alla j omega che è da un certo punto di vista un po' più scomodo di quello che succede a tempo continuo a tempo continuo una relazione simile a quella che abbiamo appena incontrato esiste tra trasformata di Laplace e trasformata di Fourier quindi a tempo continuo avreste x di s la trasformata di Laplace e quando volete avere la trasformata di Fourier avreste x di j omega qui essendo a tempo discreto invece avrete x di e elevato j omega quindi bisogna un po' abituarsi ma diciamo questo è quello che faremo la prima proprietà dicevamo è che è due pi greco periodica la seconda proprietà ha a che fare con il complesso coniugato che noi indichiamo con una barra sopra la variabile il complesso coniugato di x e alla j omega è x di e alla meno j omega quindi se io vado a vedere il valore della trasformata di Fourier cambiando il segno dell'angolo posso ricavare questo valore semplicemente facendo il complesso coniugato del valore che avevo quando l'angolo omega non era stato cambiato di segno quindi questo significa che questa metà quando mi muovo su questa metà della circonferenza questi valori qui sopra qui in realtà sono i moduli ma diciamo noi dovete immaginare poi ci sono anche le fasi diciamo i valori della trasformata di Fourier associati a questa parte della restrizione si ottengono dagli altri semplicemente con un'operazione di complesso coniugato se io metto assieme queste due informazioni quindi la periodicità di periodo 2 pi greco e il fatto che posso ottenere i valori della trasformata di Fourier cambiando il segno di omega semplicemente con un complesso coniugato dei valori quando l'omega non è stato cambiato di segno questo mi mostra che tutta l'informazione è contenuta in x e alla j omega con omega che appartiene all'intervallo 0 pi greco dalla periodicità sembrerebbe che ci voglia 0 2 pi greco ma grazie a questa seconda proprietà si vede che metà dei valori si ottiene dalla prima metà e quindi 0 pi greco è tutto quello che mi serve quindi ancora di più si accentua l'impressione che nella trasformata di Fourier ci sia molto meno che non nella trasformata nella trasformata z la trasformata z è una funzione di variabile complessa quindi funziona dalla parte reale della parte immaginaria invece qui abbiamo una funzione di un'unica variabile reale omega che per di più è diciamo limitata a un intervallo 0 pi greco esiste una formula di antitrasformazione quindi se voi avete la trasformata di Fourier potete ottenere il segnale discreto x di t semplicemente risolvendo questo integrale ecco grazie a questa formula di trasformazione di antitrasformazione si vede che la relazione che esiste tra i segnali e le loro trasformate segnali a tempo discreto le loro trasformate di Fourier questa potremmo chiamare la trasformata di Fourier continua perché omega è una variabile reale che assume valori continui la relazione che esiste tra i segnali e le loro trasformate di Fourier è biunivoca ecco il che da un certo punto di vista può sembrare sorprendente perché questo significa automaticamente che questa operazione di restrizione che sembrava così radicale abbiamo buttato via gran parte della superficie in realtà non fa perdere nessuna informazione quindi la conoscenza della trasformata di Fourier è quello che mi basta per ricostruire il segnale originale da questo punto di vista risulta che la trasformata Z era enormemente ridondante e per quanto possa sembrare sorprendente se io conosco la restrizione della trasformata Z sulla circonferenza di raggi 1 abbiamo visto che basta meno della circonferenza di raggi 1 basta una mezza circonferenza se ho questa conoscenza posso ricavare il segnale a questo punto potrei calcolare la trasformata Z e quindi trovo tutta la superficie ecco questa è una proprietà in qualche senso un po' magica perché stiamo dicendo che ho delle funzioni queste funzioni X di Z le quali quando io conosco i valori che assumono diciamo su una linea su un tratto di linea neppure troppo lungo a partire dalla conoscenza di questi valori io posso estrapolare il valore che assume X di Z dappertutto ecco questa è una proprietà diciamo ovviamente straordinaria cioè se fosse vera in generale ci permetterebbe di fare cose incredibili perché vorrebbe dire che io conosco di una funzione i suoi valori diciamo in intervallo molto piccolo e da questo posso estrapolare quello che succede in zone assolutamente anche lontane dalla zona in cui conosco i valori in realtà la trasformata Z X di Z è una funzione molto particolare che appartiene alle serie di potenze e le serie di potenze sotto diciamo le condizioni in cui abbiamo la trasformata Z sono delle funzioni analitiche per cui effettivamente esistono proprietà veramente straordinarie sono funzioni che hanno un'estrema regolarità e questa regolarità permette diciamo di ottenere l'informazione sull'intera funzione a partire dalla sua conoscenza per esempio in un intervallo molto piccolo ecco per complicare la vita non abbiamo solo la trasformata di Fourier che chiameremo continua ma esiste una terza trasformata quindi in queste lezioni abbiamo la trasformata Z la trasformata di Fourier continua e adesso introduciamo una terza trasformata che prende il nome di trasformata di Fourier discreta in inglese discrete Fourier transform di FT ecco bisogna stare attenti a capire bene tutte le relazioni che esistono tra queste diverse trasformate perché ovviamente è facile fare confusione però seguendo passo passo le definizioni che diamo e le proprietà vedrete che tutto si chiarisce allora per definire la trasformata di Fourier discreta consideriamo un segnale X di T di durata finita definito sull'intervallo 0N-1 quindi qui ho disegnato questo segnale vedete che definito in 0N-1 è un segnale a tempo discreto per comodità ho unito i puntini in alcuni testi invece vengono rappresentati con dei pallini attaccati all'asse dei tempi quindi con delle barrette verticali è una questione solo di preferenza la definizione di trasformata di Fourier discreta è questa la indichiamo con X sottolineato un po' per mancanza di simboli ormai X sottolineato K si definisce con questa formula in cui avete E alla meno J K T Fid dove FI è 2P diviso N è definita per i valori K che valgono 0, 1 N-1 questo fa sì che venga chiamata trasformata discreta è una funzione complessa perché questo valore è complesso a causa qui dell'esponente con unità immaginaria di variabili intera K ecco in questo caso io parto da una funzione discreta definita a tempo discreto tipicamente di numeri reali definita tra 0 e N-1 e ottengo N numeri complessi anche loro indicizzati da 0 a N-1 ecco quali sono le proprietà di questa trasformata discreta prima di tutto esiste una formula di antitrasformazione che come vedete è molto simile alla formula della DFT della trasformata semplicemente dove c'è l'esponenziale invece di avere E alla meno J K TFI abbiamo E alla J K TFI e abbiamo davanti alla sommatoria che non c'era prima abbiamo un 1 su N vedete che qui non c'era l'1 su N questa formula prende il nome di IDFT che vuol dire inverse discrete Fourier transform è naturale domandarsi se esista qualche relazione tra questa trasformata discreta e la trasformata di Fourier allora per vederlo consideriamo un segnale X di T che sia uguale a 0 al di fuori dell'intervallo 0 N-1 quindi prendo il segnale di prima per esempio e lo prolungo sia a sinistra che a destra con degli zeri il fatto di avere un segnale che vale 0 al di fuori dell'intervallo mi permette di calcolare sia la trasformata di Fourier continua che esige di avere un segnale definito da meno infinito o più infinito ma anche di calcolare la trasformata discreta che invece è definita soltanto su un segnale compreso tra 0 ed N ecco allora se considero un segnale di questo tipo e calcolo le due trasformate scopro che esiste una relazione molto forte tra le due nel senso che la trasformata discreta è semplicemente una versione campionata della trasformata continua quindi devo considero la X e la J omega soltanto che al posto di omega metto 2 pi greco K diviso N la dimostrazione è immediata io scrivo la formula della trasformata di furia continua dato che il segnale X di T è 0 per T minore di 0 e per T maggiore o uguale a N la sommatoria si riduce a questa la serie si riduce a questa sommatoria e confrontando le formule delle due trasformate vedo che la trasformata di furia è continua ma concide con quella discreta purché in questo esponente noi abbiamo omega uguale K F che vuol dire quindi 2 pi greco K diviso N e questo ci dà il risultato finale possiamo tornare ai nostri grafici e nel nostro grafico abbiamo la trasformata Z sappiamo che la restrizione qui ovviamente come avevamo detto prima è il modulo della trasformata Z sappiamo che la restrizione della circonferenza di raggio unitario mi dà la trasformata di furia e quella che chiamiamo trasformata di furia continua adesso il passaggio ulteriore è quello di campionare questa trasformata di furia continua e questo campionamento sono questi punti questi punti verdi ecco una volta che ho effettuato questo campionamento questa restrizione questo campionamento posso anche disegnarmi il grafico in cui vedo sia il modulo della trasformata di furia continua che è questa funzione grigia la quale viene campionata con dei campioni qui spaziati che mi danno esattamente la trasformata di furia discreta ecco anche in questo caso sembra che ci sia un'enorme perdita di informazione perché prima una funzione definita sotto il piano di Gauss poi vado a vedere cosa succede solo sulla circonferenza di raggio 1 e poi faccio un'ulteriore diciamo perdita di informazione apparente perdita di informazione perché considero solo quello che accade in questi punti verdi quindi diciamo questi questi campionamenti verdi rispetto alla conoscenza di tutta la superficie rossa sembrano essere molto ma molto poco ecco la prima però diciamo le conclusioni in realtà ci riservano una sorpresa la prima conclusione è quella che abbiamo già enunciato se ha un segnale di durata finita la sua trasformata di furie discreta è un campionamento della trasformata di furie continua ma la seconda conclusione è quella che racchiude la sorpresa questo campionamento non comporta nessuna perdita di informazione perché non comporta nessuna perdita di informazione perché se io prendo la trasformata di furie inverse la IDFT la inverse discrete furie transform a partire dalla trasformata discreta io posso recuperare il mio segnale X di T senza nessuna perdita di informazione perché DFT e IDFT sono in corrispondenza bionivoca quindi ogni segnale ha la sua trasformata di furie discreta ogni segnale trasformata torna al suo segnale e c'è una corrispondenza di tipo bionivoco quindi una volta che io ho la trasformata di furie discreta torno indietro al mio segnale e quando torno indietro al mio segnale posso calcolare la trasformata Z e quindi avere la X di Z su tutte le Z possibili nel piano di Gauss oppure posso anche calcolare la mia trasformata di furia continua e questo mostra che io non ho perso nessuna informazione ecco quindi questo è molto interessante perché abbiamo tre trasformate diverse che sono in relazione tra di loro e con le dovute ipotesi non sto mai perdendo informazione quindi sono tre modi diversi di rappresentare le stesse informazioni è chiaro che quando consideriamo una trasformata discreta dobbiamo però limitarci a segnali di durata finita è anche vero che quando noi risolviamo problemi di analisi dei dati i nostri segnali saranno sempre segnali di durata finita ecco l'ultimo argomento è quello della convoluzione periodica che si dare un'importante proprietà della dft devo spiegare cosa intendo per convoluzione periodica allora parto da due segnali di durata finita che chiameremo x dt e y dt definiti su 0 n meno 1 ecco qui diciamo considerato che avrei dovuto mettere n meno 1 quindi questo va corretto n meno 1 cosa faccio? Prendo questi segnali e li periodicizzo allora periodicizzandoli ottengo la loro versione periodica che chiameremo x tilde e y tilde di t ecco avendo a disposizione questi due segnali periodici quindi la differenza tra x e x tilde è che x è definito solo in intervallo finito x tilde è definito da meno infinito più infinito e lo stesso vale per y e y tilde avendo a disposizione questi due segnali periodici definisco una convoluzione che chiameremo convoluzione circolare in questo modo come la sommatoria per s che va da 0 a n meno 1 di y tilde t e x tilde di s come si interpreta questa convoluzione? allora voi ricordate come funziona la convoluzione quella normale e in particolare anche la convoluzione discreta io devo prendere il mio segnale per esempio x di s prendo il secondo segnale e lo ribalto quindi diventerà y di meno s quindi vi ricordate il segnale era un triangolo subito a partire da 0 in questo caso diventa un triangolo ma essendo stato ribaltato rispetto all'origine finisce qui ecco qui in questo caso ho preso i segnali x e y che erano definiti sull'intervallo finito e al di fuori di quell'intervallo ho ipotizzato che fossero uguali a 0 ecco una volta che ho fatto questo calcolo il prodotto tra x di s e y di meno s e questo mi da v di 0 mi darebbe il valore in 0 della convoluzione discreta poi faccio scivolare il segnale giallo verso destra per esempio ottenendo y di t men s vedete che qui sta scivolando e calcolo il prodotto la somma dei prodotti tra x di s e y di t men s la somma dei prodotti mi darà il valore di v di t e poi procedo nello stesso modo continuando a fare scivolare il mio segnale giallo quindi questa è la classica convoluzione in che cosa si distingue la nuova convoluzione circolare dalla classica convoluzione beh si distingue per il fatto che non ho più solo questo triangolo e questo questi due triangoli quindi qui abbiamo un triangolo rettangolo e qui abbiamo invece un triangolo isoscele e quindi quello che succede la sovrapposizione tra i due segnali è di questo tipo quindi qui all'inizio faccio il ribaltamento di y tilde poi y tilde viene fatto scivolare e andando avanti dopo aver fatto n passi di scivolamento si ritrova di nuovo sul punto di partenza per cui questo grafico è uguale a quest'altro ovviamente se qui facessi la sommatoria per diciamo per s che va da meno infinito più infinito il risultato sarebbe infinito quindi la sommatoria la faccio solo su un periodo la sommatoria dei prodotti d'altronde siccome c'è una chiara periodicità va benissimo fare la sommatoria solo su un periodo ecco un altro modo per vedere questa convoluzione circolare è immaginare a due cilindri uno dentro l'altro ecco in questi cilindri potrei avere diciamo le funzioni periodiche in realtà proprio perché sono periodiche basterebbe che in un cilindro ci sia un solo periodo e il punto cruciale è che quando io faccio scivolare le due sequenze invece di farle scivolare come se fossero due fogli sovrapposti le faccio ruotare un cilindro dentro l'altro quindi vuol dire che se una coda esce diciamo in fondo rientra dall'inizio questa è la proprietà fondamentale della convoluzione circolare da quello che abbiamo visto si intuisce ma anche insomma si vede che la funzione v di t è periodica di periodo n la proprietà fondamentale della una proprietà fondamentale della trasformata discreta di Fourier è che la trasformata discreta della convoluzione circolare quindi di d che era il risultato di minuscolo era il risultato della convoluzione circolare la trasformata discreta è il prodotto delle trasformate discrete di x e y quindi mentre la trasformata z della convoluzione è il prodotto della convoluzione discreta è il prodotto delle trasformate z di x e y così la e questo ovviamente vale anche per trasformate di furie continua perché la trasformata di furie continua è semplicemente una restrizione della trasformata z nel caso della trasformata discreta c'è ancora questa proprietà relativa alla convoluzione soltanto che non è la convoluzione normale è una convoluzione un pochino speciale questo naturalmente fa sorgere la domanda ma che diavolo possa servire la convoluzione circolare nel senso che sembra una convoluzione come dire un pochino atipica e che quindi potrebbe avere poche applicazioni in pratica mentre invece la convoluzione quella classica ha moltissime situazioni in cui è importante e noi ne vedremo ancora altre nelle prossime lezioni allora l'utilità della convoluzione circolare è legata al fatto che la trasformata di furie discreta la dft può essere calcolata in modo molto molto efficiente attraverso un algoritmo che si chiama fft fast furie transform cosa intendo per molto efficiente allora se io non usassi accorgimenti particolari quindi uso sostanzialmente la definizione della trasformata calcolare la dft mi costerebbe un numero di operazioni che cresce col quadrato del numero dei dati quindi è una un odn quadro operazione invece c'è un algoritmo che prende il nome di fast furie transform che permette di effettuare questo calcolo con un numero di operazioni che cresce come odn log n odn log n è sostanzialmente poco più pesante che odn perché log dn è una funzione che cresce molto molto lentamente quindi da questo punto di vista il risparmio è veramente enorme quindi non è lineare in n però è poco più pesante che lineare in n tra l'altro l'algoritmo fft è disponibile naturalmente in tutti i software di analisi dei segnali in particolare in matta la potete richiamare con l'istruzione fft parentesi dentro la parentesi mettete il vettore dei dati allora perché la disponibilità della fft rende così interessante la convoluzione circolare ebbene il punto è quello di riuscire a calcolare rapidamente delle convoluzioni discrete allora se voi avete la convoluzione discreta tra x e y e questo è un problema diciamo classico importante con molte applicazioni quello di calcolare una convoluzione discreta in particolare se voi considerate un filtro un filtro è un sistema dinamico lineare considerate un filtro lineare in questo caso un sistema dinamico lineare la sua uscita è la convoluzione dell'ingresso con la risposta impulsiva quindi calcolare la convoluzione per esempio significa effettuare un filtraggio allora questa convoluzione discreta se calcolata diciamo in maniera semplice semplicemente applicando le formule per come sono scritte di costa o di n quadro allora l'idea è di sfruttare la efficienza della fft riformulando una convoluzione discreta sotto forma di convoluzione circolare cosa che con alcuni trucchi si riesce a fare spesso diciamo uno degli ingredienti importanti è quello di aggiungere degli zeri in coda o davanti ai segnali comunque con questi accorgimenti uno può partire da una convoluzione discreta riscriverla come una convoluzione circolare allora se ho una convoluzione circolare posso pensare di usare questo schema di calcolo prendo x ne calcolo la sua discrete furie trasforma attraverso la fft faccio lo stesso per la y e questo mi costa odn log n poi faccio il prodotto tra le due trasformate che mi dà la trasformata discreta di v a questo punto applico la inverse furie trasforma che vi ricordate che la idft la trasformata discreta inversa era molto molto simile alla dft ecco esattamente come c'è la fft c'è la ifft quindi la trasformata di furie veloce inversa anche questa costa odn log n e ottengo il mio v ecco sembra strano che questa strada che apparentemente è decisamente più complessa di questa perché qui faccio solo una convoluzione nel dominio del tempo qui invece passo nel dominio delle frequenze con due fft faccio un prodotto quindi qui i prodotti ovviamente costano n operazioni e poi torno indietro nel dominio del tempo con un inverse furie trasforma ecco per quanto sembri molto più macchinoso questa procedura alla fine costa odn log n quindi è estremamente più efficiente un'applicazione importante è il filtraggio digitale con queste tecniche è possibile effettivamente diciamo fare del filtraggio digitale in tempo reale filtraggio digitale che diventa importante perché mentre una volta i filtri erano essenzialmente filtri analogici invece ormai si lavora sempre più con segnali digitali basta pensare anche alla musica memorizzata negli mp3 o nei cd e a questo punto se voi volete fare dell'elaborazione dovete filtrare eliminare del rumore ottenere degli effetti lo potete ottenere con dei filtri e questi filtri lavorano con dei numeri quindi con la rappresentazione numerica del segnale audio e diventa importante a questo punto poter calcolare rapidamente le convoluzioni in modo tale che i filtri possano essere diciamo eseguiti in tempo reale ultima nota una riflessione tra le relazioni che esistono tra i segnali e le trasformate di Fourier allora quando un segnale è periodico oppure di durata finita che è un po' lo stessa cosa perché se è di durata finita posso periodicizzarlo facilmente la sua trasformata di Fourier risulta discreta e questo per esempio è il caso della DFT il cui dominio effettivamente è quello degli interi quando il segnale è a tempo discreto che è quello che consideriamo poi nel nostro corso di identificazione quindi il dominio agli interi la sua trasformata di Fourier è periodica questo vale per la trasformata di Fourier continua di segnali discreti la X di E alla J omega ma vale ovviamente per la DFT ecco attenzione che la DFT ha la proprietà di essere sia discreta che periodica mentre invece se considerate la trasformata di Fourier di un segnale discreto che però non è di durata finita in questo caso avete una trasformata che è periodica che è funzione di omega però invece è continua bene abbiamo finito